Vuoi sapere cosa ho fatto stanotte? No, ma a quanto sembra deve essere stato eccitante. È la mia festa e mio marito non vuole ballare con me. Ballerò io con te. Forse dovremmo correre più rischi. Innamorarsi di un'altra persona è correre un rischio. È assurdo quello che ci sta succedendo. Non puoi cambiare una persona come lui, quello che pensa, quello che vuole fare. Credo che mi sto innamorando di te. Lo dici di frequente, immagino. Lo dico quando lo penso. Lo dici quando ti conviene. Ho provato qualcosa che non provavo da molto tempo. Ti succede sempre, ma tu te lo dimentichi.